I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo ridiziato di delitto emesso dalla procura di struttura antimafia di Napoli a carico di Andretta Salvatore e Andrea, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 37 anni, entrambi residenti ad Acerra, raggiunti a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio, estorsione continuata e detenzione legale di armi, tutti aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Nello specifico l'attività investigativa condotta dai carabinieri attraverso un diffuso impiego di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di metodi tradizionali quali telecamere attive H24 e servizi di osservazione e riscontro, ha permesso di documentare la piena operatività del suddallizio criminale operante ad Acerra, del quale Salvatore e Andrea è esponente di vertice. In particolare gli Andretta sono considerati mandanti o comunque gli istigatori, l'esecutore materiale Picardi Giuseppe era stato arrestato in data 1-2-2022 del tentato omicidio di D'Agostino Emanuele avvenuto ad Acerra in data 21-11-2021 a caso di un contrasto dovuto al controllo del territorio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza gli Andretta insieme ai fratelli avventurato Bruno e Giancarlo avevano dato luogo ad una stesa effettuata per le vie di Acerra a bordo di un motociclo armati di pistole e fucile mitragliatore nelle ore immediatamente precedenti al predetto evento delittuoso. Salvatore Andretta è inoltre ritenuto responsabile quale mandante di tre diverse richieste estorsive ai danni di imprese ed i rioperanti nel comune di Acerra ai cui titolare è stata formulata una richiesta di denaro. L'egemonia di riconoscimento criminale della famiglia Andretta era tale che la casa di residenza costituiva omaggio obbligatorio da parte della processione della Madonna dell'Arco così come documentato nel corso delle indagini. Il provvedimento è eseguito in una misura risposta in serie di indagini preliminari verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinata a riviesta sono persone sottoposte all'indagine e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.